il perfetto storia di un'altra scuola rispetto alla generazione tua dei coraggiosi adesso sta avanzando una generazione inquietante dei convinti i convinti che pure senza impegno pianificazione scrittura si riuscirà ad avere successo e a fare tanti tanti soldini e questa è una prospettiva inquietante per cui qualche psicologo antropologo ha scomodato il nichilismo praticamente non è quello però insomma a livello di valori ci siamo molto molto vicini e questo impone anche un'altra rimodulazione del discorso scolastico e dobbiamo inventare il perfetto storia di un'altra scuola